Il Centro Sociale è nato nel 1994. Lo scopo del centro è quello di tenere aggregati gli anziani. Svolgiamo diverse attività all'interno del centro, cioè abbiamo un bar con l'annessa sala gioco dove gli anziani giocano a carte. Fuori l'aria, sciogliamo le spalle, inspiro, punta in fuori e fuori l'aria. Sono una volontaria che gestisce l'ambulatorio infermieristico aperto una volta alla settimana, a cui possono accedere soli i soci del centro. Le prestazioni che l'ambulatorio offre sono controllo della glicemia, del colesterolo, ignazioni intramuscolari, controllo della pressione e medicazioni. Questo servizio è molto necessario perché quando uno decide di fare questi esami non deve perdere tempo dal medico a fare le richieste, andare in ospedale, fare la fila per l'appuntamento. Sono un volontario e svolgo la mia attività all'interno del centro in qualità di segretario. Le mie mansioni sono quelle di tenere la contabilità, redigere le pratiche e tenere i rapporti con l'amministrazione pubblica. Fra le attività che il centro svolge organizziamo pranzi, serate per il ballo e serate per la tombola. Alcune persone che sono sole passano qualche serata in compagnia.